I carabinieri della compagnia di Siracusa hanno effettuato un controllo del capoluogo per contrastare reati predatori ma anche per accertare e sanzionare violazioni commesse da persone sottoposte a misure cautelari. Il servizio ha visto impegnate numerose pattuglie che hanno proceduto al controllo di una settantina di persone, di una cinquantina di veicoli da cui è derivato il sanzionamento per svariate e importanti infrazioni al codice della strada qual è la mancanza di copertura assicurativa, la guida al cellulare e senza la prescritta patente. Una 38enne siracusana è stata denunciata perché trovata in possesso di un coltello con lama di 7 cm celato all'interno della sacca laterale della sua bicicletta il cui porto senza giustificato motivo risulta essere vietato dalla normativa. Nel corso dei controlli i carabinieri della sezione radiomobile hanno rimenuto in una piccionaia abbandonata in via Don Luigi Sturzo 30 dosi di hashish dal peso complessivo di 14 grammi. Lo supefacente è stato sequestrato a carico di gnoti e nei prossimi giorni verranno eseguite ulteriori accertamenti per verificare la qualità all'origine e identificare chi lo custodiva. Sono stati segnalati all'autorità amministrativa quali assuntori 7 persone trovate in possesso di modica quantità di cocaina, marijuana e hashish. Sono state elevate anche sanzioni amministrative per l'inosservanza della normativa Covid in vigore a persone sorprese a circolare per il capoluogo in orario notturno senza un manito motivo.